Allora ragazzi facciamo brevemente il punto della gara, una Roma un po' come la partita contro il Torino, la Roma non mi è piaciuta molto fino al gol, però possiamo dire questo sicuramente, che se in fase propositiva siamo comunque mancati un pochino, ma soprattutto perché comunque c'è sempre un ultimo passaggio sbagliato, quindi la palla come se scottasse in mezzo ai piedi, siamo stati poco lucidi negli ultimi metri, dopo il gol sicuramente abbiamo giocato più in scioltezza, però il discorso è un altro, il discorso è che ho visto i dati, a fine gara lo Shakhtar mi sembra che ha fatto il 65% di possesso palla e 0 di riporta, Io credo che stia tutta qua la definizione della gara che questa sera ha fatto la Roma, una gara molto concentrata, quindi la Roma con un 37% ha fatto 3 tiri in porta, di cui uno il gol, uno il tiro di Dzeko che è uscito tanto così, e credo l'altro sia quello di Diego Perotti, questo piattone poggiato, tutti e tre i tiri sono stati fatti nella ripresa, quindi è normale che poi possiamo dire che la Roma abbia giocato meglio il secondo tempo, però è che proprio la Roma dopo il gol si è come sbloccata, loro chiaramente dovevano attaccare, tu hai giocato più in scioltezza e alla fine hai meritatamente passato il turno, dobbiamo cercare di sbloccarci però quando c'è il momento di difficoltà, perché comunque, continuo a ripetere, che la Roma in casa fatica un pochino a fare gioco, perché secondo me invece quando si distende in contropiede, quindi quando sei corto, rubi palle e riparti in velocità, fai male, quando invece palla a te, che devi fare gioco, probabilmente c'è forse poco movimento davanti, non lo so, non so spiegare bene, però ormai questa è una cosa che vediamo da inizio anno, la Roma soprattutto in casa quando deve fare gioco fatica, quando poi sblocca il risultato, gioca in scioltezza o quando invece gioca fuori casa e comunque sei corto e riparti velocemente, quindi rubi palla, fai il pressing e dopo riesci a essere pericoloso, ma ormai credo che, voglio dire, siamo a marzo, credo che se non c'è stata un'evoluzione in questo senso penso che finiremo la stagione così, speriamo che comunque riusciamo sempre poi a trovare la zampata vincente come questa sera Ed Ingeco, il nostro vero eroe in Champions League, ma comunque un centravante che ha fatto più dei 50 gol, io non voglio più sentire discussioni in merito a questo ragazzo che potrà avere sicuramente qualche limite, ma ripeto come sempre, ho detto anche quando lo criticavo, è l'unico che la butta dentro, se la Roma ha una fase offensiva è grazie a loro, scrivete sotto cosa ne pensate nei commenti e adesso torniamo a casetta, sempre Forza Roma!